Sono Gian Paolo Speri e vi presento il nostro Amarone. Il nostro Amarone arriva sempre dalla collina Sant'Urbano, una collina prestigiosa all'interno della Valpolicella Classica. Intersecata questa collina da una stupenda fase di Marogna secco, dove i nostri genitori hanno dedicato vita e schiena per poter ricostruire e ripristinare. Le uve che la famiglia Speri non compra, ma solo vinifica esclusivamente le proprie. Il nostro Sant'Urbano, Amarone, si identifica già dal colore, come potete vedere, molto intenso, ed è un classico Amarone, di grande bevibilità e grande versatilità. Forse che esprime, come diceva il nonno, il suo meglio dopo dieci anni, perché riesce a integrare frutto, freschezza, ma anche complessità aromatica. Già dal profumo questa ciliegia è evoluta, sicuramente da una fase del passimento molto importante, sono oltre 120 giorni, pensate che queste uve dedicano il loro momento di appassimento all'interno sempre di questo vigneto Monte Sant'Urbano, dove abbiamo il nostro fruttaio. L'abbinamento sempre con gli amici, io direi che un grande bicchier di vino, un grande Amarone deve essere consumato, forse con le persone che più ti dedicano la loro amicizia. E forse anche un piatto che può essere importante, più o meno, ma da condividere. Grazie 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 Grazie